Escalation di truffe online in Casentino, complice probabilmente anche il lungo lockdown che ha indotto le persone a fare acquisti o compravendite in rete. Da tempo infatti i carabinieri di Bibiena stanno lavorando su vari filoni. Le indagini adesso hanno permesso di risalire ad un uomo di 50 anni, pregiudicato di origine campana ma residente a Milano, che ha tentato di truffare una donna casentinese che su internet aveva messo in vendita un camper. L'ignara venditrice stava infatti per cadere nella rete della truffa conosciuta come quella del bonifico o della ricarica. Utilizzando questa tecnica i truffatori prendono di mira e prestano la vittima davanti a un ATM creando confusione. Le fanno credere di ricevere una ricarica bonifico sulla propria carta o conto corrente ma di fatto inducono quella persona ad eseguire una ricarica bonifico sul conto corrente del truffatore. Il 50enne, secondo quanto appurato dai carabinieri, aveva anche utilizzato i documenti di un'altra persona, risultata totalmente strana ai fatti. Per questo è stato denunciato anche per sostituzione di persona. E sempre i carabinieri della compagnia di Bibiena stanno indagando anche su alcune truffe riguardanti lo sdoganamento di merci provenienti ad esempio dai paesi asiatici. Proprio in questi giorni i militari hanno raccolto la denuncia di un uomo che dopo aver acquistato uno strumento musicale è stato contattato per sdoganare l'oggetto. Con una serie di inganni i truffatori sono riusciti a farsi inviare numerosi bonifici nel tentativo di sdoganare lo strumento musicale che però non è mai arrivato a destinazione, ossia a casa di chi l'aveva acquistato. Su questo fronte le indagini sono ancora in corso. In questi giorni il comandante della compagnia di Bibiena, il capitano Giuseppe Barbato, ha infine promosso assieme ai sindaci della vallata la pianificazione di una serie di incontri di prevenzione con la cittadinanza orientati a fornire consigli utili per uno shopping in rete ma sicuro.